Oggi lavoravo insieme ad un cliente sul valore delle parole chiave e in particolar modo per la comunicazione efficace. Se devo comunicare durante una riunione, un discorso oppure una conferenza che devo tenere, ho bisogno naturalmente di parole chiave per il mio apprendimento, per ricordare il mio discorso, poter utilizzare una tecnica come quella delle mappe mentali o dei loci di cui abbiamo già parlato. Ma ho bisogno anche che queste parole chiave siano efficaci per chi mi ascolta, riescano a penetrare nella loro mente e rimanere stampate nella loro memoria. Come fare? Ecco che ci torna utile un concetto di cui abbiamo già parlato in un video precedente, il cosiddetto effetto domino. L'effetto domino si innesca quando una parola chiave apre una serie di collegamenti a catena che mi interessano, che porteranno me stesso ma anche la persona che sta ascoltando ad arrivare al contenuto comunicativo che voglio far passare. Quindi una parola chiave innescherà una serie di ragionamenti. Non sempre infatti abbiamo la possibilità di esaurire completamente l'argomento di un discorso nel corso di un'ora di speech o anche di meno. Quindi c'è bisogno che le persone continuino, anche dopo la fine della mia conferenza, a ragionare e arrivino esattamente dove io voglio che arrivino. Inoltre faranno leva sulle parole chiave che io avrò usato e magari ripetuto nel corso della mia conferenza e queste parole rimarranno impresse nella loro mente e riusciranno a far passare, veicolare il contenuto che mi interessava. Quindi preparate le vostre parole chiave sempre pensando alla loro efficacia a lungo termine e alla serie di collegamenti che innescano, all'effetto domino che provocano.